Mi è stata richiesta questa traduzione, l'Elegia 1 a 1 di Properzio, diciamo due parole solamente sull'Elegia, visto che di questo argomento non abbiamo mai parlato. A Roma i poeti che hanno coltivato l'Elegia, hanno prodotto delle opere caratterizzate da questo genere letterario, e sappiamo che furono Tibullo, Cornelio Gallo, Properzio Vidio, qualcuno Rissale, a Catullo. L'Elegia è un genere letterario che arriva dalla Grecia, la metrica è un alternarsi di esametri e di pentametri. Un esametro, un pentametro, un esametro, un pentametro. Infatti viene chiamato appunto distico, elegiaco. E gli argomenti inizialmente, che erano il cuore dell'Elegia, effettivamente erano molteplici. Si parla della guerra, della politica, c'è l'Elegia amorosa, l'amore, c'è l'Elegia gnomica, quella che vuole sentenziale, vuole dare degli insegnamenti strettamente di carattere morale. Poi nel periodo elenista abbiamo Callimaco, dove l'Elegia diventa essenzialmente erotica. Erotica erudita con argomento mitologico. A Roma l'Elegia viene ripresa, si dice che inizialmente fu Catullo a riprenderla, si sviluppa in modo particolare con Augusto nel circolo di Mecenate. Questa Elegia però perde l'oggettività di quella greca, diventa più soggettiva, più personale, più legata all'esperienza dell'autore, dove troviamo proprio un racconto. Ecco perché i critici pensano che l'Elegia era tienna sia stata contaminata anche dall'epigramma. L'epigramma è una composizione più legata alla propria persona, ai propri sentimenti, al soggetto, al cuore del poeta. E in questo racconto sembra che si possano avvisare anche l'epilio, ma così alcuni critici dicono. Mentre è interessante la componente bucolica. L'amore per la campagna, l'amore per la pace, la quiete, la condanna della guerra. Dunque l'Elegia romana ha una componente amorosa, ma anche una componente civile, laddove viene celebrata la grandezza di Roma, la sua tradizione, tradizione, i sui mores, eccetera. Ora, Properzio non si allontana da questo denominatore comune che è caratteristico dell'Elegia romana. Anche se nella sua produzione, primo, secondo, terzo, quarto libro, vi è un'evoluzione, mentre nel primo e secondo libro delle Legie tutto è occupato da questa passione che diventa il servizium amoris, e allora vicino alla passione abbiamo la gelosia, abbiamo l'estasi, abbiamo le promesse, abbiamo i tradimenti, abbiamo la gelosia, l'ho già detto, abbiamo la nequizia, la nequizia che viene deliberatamente evidenziata nella donna che sembra che voglia volontariamente far soffrire l'autore. Poi c'è anche perché la protagonista di quest'opera, Cinzia, che probabilmente si aveva come nome Ostia, muore e quindi c'è il ricordo, c'è la nostalgia e nel terzo libro la stanchezza, il voler ritrovare se stesso in un momento in cui nella propria vita ci si è si è presi conto che si è debordato e si è usciti da una strada, da una via di razionalità, ma è un argomento che troviamo già nella prima opera. Sono tutti pensieri che in un certo senso ritroveremo poi in Petrarca, anche se in una nuova prospettiva tuttavia questa consapevolezza di non essere più in grado di controllare i propri sentimenti, di essere usciti da una strada razionale, di essere stati in mano a una donna che per quanto intellettualmente preparata con Cinzia Properzio si trovava in perfetta sintonia, sapeva sconfidarsi sotto tutti i punti di vista in una prospettiva culturale, intellettuale, di gusti, di raffinatezza nella prospettiva erotica, sensuale, eccetera tuttavia Properzio è anche consapevole di aver perso la sua autonomia e in questo rapporto molto tormentato perché Cinzia, oltre ad essere più grande di lui di alcuni anni amava la libertà non voleva essere controllata non voleva essere legata definitivamente a un uomo non sopportava la gelosia di Properzio ecco, oltre ad una, quindi, realtà quanto mai precaria c'era proprio questa esigenza di diventare di nuovo padrone della propria vita no? della propria esistenza delle proprie scelte ecco allora che questa possibilità ricompare nel quarto libro e si completa nella prospettiva nuova augustea perché nel circolo di mecenate più di una volta era stato proposto a Properzio di cantare la grandezza di Roma ma soltanto quando a un certo punto subentra questa stanchezza poi Cinzia muore Properzio si aggrappa si realizza nella celebrazione dei grandi valori della celebrazione di Roma nella celebrazione dell'Italia della vittoria di Azio nella celebrazione dei Mores Maiorum nella denuncia di una realtà esistenziale un po' comune a tutta Roma che aveva dimenticato questi Mores nella condanna della guerra anche se poi ritrova a volte Cinzia questa volta in una prospettiva di amore morte nel senso di un amore che valdrà della morte uniti per sempre una Cinzia che riappare e che gli assicura questo amore che non può non può venire meno e che legherà Cinzia e il poeta oltre il tempo oltre la tomba muore Cinzia ricordiamoci 50 nasce su per giù Properzio 20 muore Cinzia quindi cinque anni dopo muore Properzio quindi molto giovane 35 anni ecco nella prima elegia del primo libro noi abbiamo già un po' questa impostazione e troviamo un elemento importante dell'opera di Properzio una componente importante che è la mitologia attenzione però che questa mitologia non è più intesa alla maniera virgiliana è una mitologia che ha un valore esornativo un valore esemplificativo è un valore che ci può che rivela una composizione intellettualmente culturalmente posta su un piano volutamente superiore detto questo sono poche parole poche poche pochi concetti che io vi propongo così come si trovano nei libri anche perché in tutta onestà l'elegia non è stato mai un capitolo che io ho affrontato con interesse particolare con interesse personale per cui vi dico quello che troverete potete trovare anche sui libri perché tante volte qualcuno mi ha chiesto ma perché come ha scritto tante cose non scrive anche un test di letteratura italiana un test di letteratura latina ma non è necessario ce ne sono tantissimi in commercio fatti abbastanza bene e con chiarezza non c'è motivo che invece c'è motivo di tradurre queste poesie cercando di comprendere parola per parola i vocaboli e non studiare a memoria una traduzione senza dare delle giustificazioni razionali e consone notate una cosa di figure retoriche ce ne sono poche si ripete all'infinito la nastrofe ma come ho già detto altre volte nella poesia latina ma non soltanto nella poesia latina la nastrofe è abbastanza comune a volte invece di la nastrofe si potrebbe parlare addirittura di un imperbato ma no vedete anche qui vedete nella costruzione latina qualcuno dice dobbiamo guardare i casi e basta no anche in latino c'è una costruzione no non è che viene buttato lì a caso però nella poesia troviamo dei nomi degli attributi che normalmente dovrebbero essere vicini come in questo caso suis e ocellis e li troviamo addirittura spezzati da un verbo cepit quindi attenzione a questa a questa figura retorica che si ripete così all'infinito ma non è una novità legata alla poesia di properzio è un modo di procedere tipico di tutta la poesia latina e non soltanto della poesia latina allora cinzia prima suis miserum e mecepit ocellis com tactum nullis ante cupidinibus cinzia per prima cipit catturò me quindi questa è la costruzione l'ossatura cinzia prima cipit me questo me ha un attributo misero catturò me misero suis ocellis coi suoi occhi quindi confessa properzio la forza penetrante degli occhi di cinzia che vanno dritti al cuore del poeta e che sono l'amo l'esca l'esca che farà innamorare properzio e lo legherà questa donna contactum non li sante cupidinibus contactum si deterà um misero toccato si rivolge sempre al me prima da nessuna passione da nessun desiderio tum mi constantis deecit lumina fastus et caput impositis pressit amor pedibus donet med opvit castas dis quellas improbus et nullo vivere consiglio allora deecit deecit traduce un fare abbassare voi sapete che in latino non si può tradurre il verbo facere seguito da un altro verbo quindi ci sono vari modi di traduzione e alcuni verbi hanno già nel loro significato intrinseco questo significato fece abbassare e a me lumina che cosa lumina sono gli occhi fastus fastus constantis di superba di superbia costante costante sicura e vedete la personificazione dell'amore scritto in a maiuscolo in a maiuscolo e l'amore prestit caput pedibus impositis e l'amore schiacciò la mia testa impositis pedibus dopo aver posto io potrei direi che andrebbe bene porlo come un avlativo assoluto impositis pedibus dopo averci posto sopra i suoi piedi donek finché docuit me docere regge l'accusativo mi insegnò questa è una temporale o disse ad odiare le caste fanciulle in probus ho sbagliato sta con donek me docuit quindi donek me docuit in probus o disse voi sapete che è uno dei verbi memineo di noi dove il tempo passato ha valore di tempo semplice per cui questo o disse un perfetto io lo traduco come infinito presente ad odiare le caste fanciulle e a vivere senza non lo consiglio senza nessun ritegno privo di ritegno privo di equilibrio queste abbiamo due infinitive sono in coordinazione rete appunto da questa temporale e e iam toto furor ic non deficit anno con contamin adversos cogo avere deos e a me ormai toto anno per tutto l'anno questo furore non viene meno dunque qui c'è una cosa che non so spiegarvi se qualcuno ha un'idea la proponga e io ne sono grato difficile regge l'accusativo me deficere qui invece abbiamo un dativo sarà qualche regola che io mi scordo oppure una licenza poetica non lo so toto anno è un tempo continuato che in casi particolari può essere tradotto anche in ablativo semplice kunkogor kogor con indicativo vuol dire quando ed è una temporale quando tuttavia sono costretto a far cosa ad avere gli dei contrari anche qui ho fatto notare l'anastrofe questo toto anno spezzato addirittura dal nominativo del praticato verbale siamo lì al limite secondo me l'anastrofe iperbato io li accetterei tutti e due qui c'è la prima figura mitologica emilanione che si era innamorato di Ataranta o viene anche chiamata Iaside perché figlia di Iaso vi ricordate questa questo suffisso ide che ci dice Criseide figlio di Crise no quindi noi abbiamo questo miragnone che si innamora di Ataranta la figlia di Iaso e va incontro a dei grandissimi sacrifici per poterla avere quindi milanion nullos fuggendo tulle labores se viziam dure contudit Iasidos Iasidos è un sostantivo greco ed è un genitivo che sta con dure quindi Ottullio qui abbiamo un fuggendo in ablativo che noi possiamo tradurlo in ablativo anche in italiano col gerundio voi vi ricordate che vi ho detto più di una volta che il gerundio latino in ablativo è l'unico caso in cui può essere tradotto col gerundio italiano non fuggendo alcuna fatica lo metto al singolare perché in italiano alcuna non ha il plurale quindi milanione non fuggendo alcuna fatica Ottullio vinse contudit la durezza di chi della insensibile atalanta anche qui vedete dure e iassidos diviso dal predicato verbale un'anastrofe come fece l'eroe della mitologia greca a vincere questa durezza dell'insensibile atalanta infatti nam modo partenis amens erravat in antris rursus in ersutasibat et ille feras infatti a volte errava demente antris partenis attraverso come possiamo dire i recessi i recessi del partenio che è un monte dell'arcadia in antris partenis io adesso ho trasformato in un moto per luogo qui viene presentato come uno stato in luogo in antris partenis e di nuovo quello ibat si lanciava in feras irsutas contro fiere feroci qui c'è tutta un'anastrofe let dovrebbe essere all'inizio e iosutas feras non dovrebbe essere interrotto dal praticato verbale aveva combattuto anche contro proprio come prove d'amore contro belve feroci il etiamilei percusus vuldinerami saucius arcadis rubibus in gemuit quello io qui ho messo una subordinata che potrebbe avere valore temporale anche percosso dopo essere percosso da un colpo della clava di ilio ilio centauro rimase gemente ferito rupibus arcadis tre rupi dell'arcadia e una seconda vedete figura mitologica prima abbiamo parlato di Milagnone adesso stiamo parlando del centauro rileo sono accenni che a noi possono a volte sembrare difficili perché non conosciamo più la mitologia greca per quei tempi era una cosa abbastanza specialmente tra uomini di cultura una cosa abbastanza normale ego veloce in potuit ad un moise puellam ergo perciò poté domare quella fanciulla veloce tanto in amore fides bene fatta valent tanto in amore la fedeltà e gli atti eroici valgono qui c'è una antitesi la si parlava di Milagnone ma io sono molto differente in me tardus amor non nulla scogita tardes nec meminite notas ut prius i revias in me l'amore stanco non conosce alcuna arte stiamo parlando dell'arte di sedure una donna nec meminit anche qui un perfetto con valore di presente con questi verbi che mancano di tempi semplici ne ricorda ire siamo in un'oggettiva di camminare per vie note di seguire vie note ut prius come prima prius è un avverbio at vos deducte quibus est fallacia lunet labor immagis sacca priare focis en agedum dominementem convertite convertite nostre et facite illa mio palleat ore magis qui sta rivolgendosi ai maghi sacerdoti di diane di apollo ma voi e poi abbiamo una proposizione relativa puntativa di possesso a cui è fallace c'è l'inganno della luna tirata giù e la fatica di piare sacra di celebrare sacri rinti sui magici fuochi quindi questo a cui è si trasforma poi che avete che avete dunque l'inganno possedete l'inganno di tirare giù la luna e la fatica di celebrare i sacri riti sui magici fuochi voi en e agedum sostanzialmente hanno lo stesso significato vuol dire or su e non teriezione or su mutate il cuore della nostra padrona e un questo nostro pluralia maiestatis domine vedete la servitù d'amore cinza viene definita padrona della nostra padrona et facite e fate in modo e poi abbiamo una esplicativa laddove in questa costruzione ci può essere l'utacongiuntivo ci può essere l'accusativo semplice no scusate l'infinito semplice o l'accusativo più infinito oppure il congiuntivo semplice come in questo caso ci sono quattro costruzioni fatte in modo di allora ripeto l'utacongiuntivo congiuntivo semplice infinito semplice accusativo più infinito il poeta ha scelto la costruzione del congiuntivo fate in modo che quella impallidesca questo pallore come espressione di amore più del mio viso meore è un secondo termine di paragone più di quanto impallidesca io dunque è ego crediterim vovis et sidera et amnes posse citeneis tucere carminibus crediterim è un congiuntivo potenziale allora io potrei credere a voi stiamo parlando sempre dei maghi e poi abbiamo l'esplicativa che possiate guidare le stelle e i fiumi attraverso i canti citenei si parla dell'isola di cinto patria appunto di apollo e di diana di nuovo un'immagine mitologica et et vos qui siero lapsum revocatis amici querite non sani pectoris ausilia e voi o amici poi abbiamo la proposizione relativa che cercate tardi me ormai prostrato da questa sofferenza da questo amore che diventa sofferenza e passione querite di nuovo un imperativo quindi abbiamo una principale imperativa interrotta da questo relativo da questa subordinata relativa cercate i rimedi letteralmente di un cuore non sano cercate dei rimedi per un cuore ammalato fortiter et ferrum sevos paziemur et tignes sit modo libertas que vedi tiraloqui il verbo è paziemur quindi è un futuro coraggiosamente sopporteremo et et è un polisindeto et ferrum è la spada è la guerra è una metonimia sopporteremo è il ferro e i fuochi crudeli con fuochi crudeli anche questa potrebbe essere una metafora possiamo riferirla a sofferenze sofferenze del cuore ma potrebbero anche essere sofferenze fisiche sit modo libertas ci sia solo la libertà qui c'è un sottitteso nobis è un dativo di possesso sia solamente la libertà noi che abbiamo solamente la libertà loqui è una soggettiva di dire que ira velit le cose che lo sdegno vuole possa volere un congiuntivo trazione modale dipende da un infinito ma qui chiaramente dà il senso della possibilità e quindi dell'eventualità e quindi in latino abbiamo necessariamente il congiuntivo ferte per estremas gentes et ferte per undas qua non un lame un femmina morit iter portate mi c'è un sottinteso un mi per estremas gentes attraverso i popoli lontani et ferte portatemi attraverso le onde allora ferte ferte abbiamo un'anafora poi attraverso le onde potrebbe essere una metonimia una metafora le onde è una parte del tutto cioè il mare e anche qui potrebbe essere una sinonimia nel senso portatemi attraverso le terre attraverso i mari lontani insomma portatemi in giro per il mondo qua è un avverbio di moto per luogo attraverso cui nessuna donna abbia conosciuto i termeumi mio tormento la mia la mia strada attenzione noritev sta per noverit siamo di nuovo abbiamo i nuovi odi con verbi al perfetto con valore di presente quindi sarebbe meglio tradurlo col presente dove nessuna donna conosca la mia avventura questo it era una metafora noritev sta per noverit perfetto congiuntivo con valore di presente congiuntivo vos rimanete qui bus faciliteus hanno i taure sitis et in tutto sempre l'amore pares rimanete voi ai quali abbiamo una relativa il dio stiamo parlando dell'amore annuis è stato favorevole aure facili con orecchio benevolo anche qui qui abbiamo una immagine mitologica siate quindi qui c'è un'anastrofe e siate sempre pares in tutto amore contraccambiati in un sicuro amore nel sicuro amore c'era anche properzio vi ricordate che era innamorato di una schiava poi passa a ostia cinzia e quindi invita i suoi amici rimanete su un amore sicuro non intraprendete un viaggio catastrofico come il mio perché rischiate di perdere voi stessi in me nostra venus noctes esercita amaras e nullo vacu stempore deficit amor in me la nostra venere di nuovo l'antropomorfismo esercita conduce notti amare e nullo tempori in nessun momento l'amore deficit rimane vacu inoperoso anche qui abbiamo delle anastrofe vedete vacu logato staccato da amor nullo staccato da tempore eccetera ed ecco l'avvertimento che termina questa elegia oc monio evitate malum monio è un incidentale evitate questo male vi ammonisco vi ricordo sua quenquem moretur cura neque suetto mutet amore locum il proprio tormento sua cura moretur trattenga ciascuno ognuno stia nella sua sofferenza stia nel primo amore anche se può a un certo punto esprimersi con sofferenza anche se con difficoltà è costretto a rinunciare ad uno nuovo ad una nuova passione però meglio rimanere su qualcosa di certo piuttosto che da prendere un viaggio scriteriato e mutet non muti attenzione che questo sono dei congiuntivi esortativi moretur e mutet e non allontani il luogo da un amore sicuro sostanzialmente e non si allontani da un amore sicuro quad si quis monitis tardas adverter i taures eu referet quanto verba dolore mea questo quad darei valore di perciò quindi congiunzione coordinante conclusiva questo quis a valore di aliquis perde ali essendoci un sì davanti se qualcuno adverterit avrà rivolto le orecchie lente allora rivolgere le orecchie lente è tutta una perifrasi se qualcuno non avrà ascoltato le mie parole no ai miei ammonimenti qui è un lungo giro se qualcuno adverterit non avrà rivolto le orecchie lente ai miei se qualcuno non mi avrà ascoltato ahimè quanto dolore con quanto dolore referet ricorderà mea verba le mie parole a haimè Grazie.